sono tutti oggi andiamo a vedere come attivare il follow me sulla fiat punto allora spegniamo la macchina andiamo a schiacciare gli abbaglianti ecco qua adesso c'è 30 secondi 60 90 120 150 180 2 10 che è il massimo per spegnerli si spegne in automatico dopo 210 secondi in questo caso tenendo attivata la levetta per un paio di secondi vedete disattivata che si spegne il sistema in automatico dopo tutti tutti i piccoli in questo caso poi tenendo attivata la levetta per un paio di secondi questo è tutto se avete tutti i video di questa posizione e scrivetele in un canale se non è la posta grazie grazie